Sabato 13 novembre è il giorno in cui sarà finalmente aperta la bretella stradale di Castelpizzuto. Dopo circa cinque ore di serrato confronto al tavolo tecnico convocato dal prefetto di Sernia Gabriella Faramondi, poco prima delle 17 la decisione che fa tirare un sospiro di sollievo ai 160 residenti e resistenti di Castelpizzuto, provati da cinque mesi di disagi, acuiti dal recente avanzamento del fronte franoso, tra qualche giorno potranno tornare a usare l'auto per spostarsi da e per il paese. Il bypass stradale che costeggia lo stabilimento di acque e minerali a Valle della Frana sarà percorribile a senso unico alternato governato da un impianto semaforico, ma dal tavolo prefettizio emergono altre due importanti novità che verranno attuate nel medio e si spera non troppo lungo periodo. Riguardano la messa in sicurezza del fronte franoso e il successivo ripristino di quel tratto della provinciale 21. Per quanto attiene a quest'ultimo passaggio, l'ente regione ha reso nota la disponibilità delle ingenti risorse necessarie. Nei giorni scorsi trapelata una approssimativa stima di 500 mila euro, ma stante il recente ampliamento dello smottamento potrebbero non essere sufficienti. Intanto a caldo dopo la conferenza stampa di oggi pomeriggio, nelle parole del sindaco di Castelpizzuto Carla Caranci, il positivo commento circa l'esito dell'incontro da lei stessa definito risolutivo. Sì, sì, diciamo che è stato un tavolo tecnico risolutivo di tante questioni che si dovevano chiarire e mettere a punto. Quindi sono stati stabiliti degli interventi a breve, medio e lungo termine. Entro sabato riapriamo la bretella, quindi questo ci consentirà di superare finalmente l'emergenza per i cittadini che potranno tornare con le proprie autovetture nelle abitazioni. Poi ci sarà un intervento di messa in sicurezza, diciamo, nel movimento franoso per evitare lo scivolamento delle opere provvisorie che dovrebbe fare il privato e questo ci consentirà di passare anche noi, diciamo, sulla strada provinciale. Un sistema di moritoraggio verrà attivato dalla protezione civile nazionale e infine appena è pronto il progetto che la provincia si è impegnata a redigere per la sistemazione definitiva della frana, la regione anche pare che abbia trovato i fondi e quindi avremo di nuovo la nostra strada provinciale. E dunque per gli abitanti di Castelpizzuto, la giornata dopo la protesta inscenata stamane sotto il palazzo del governo, si conclude nel migliore dei modi possibili.